Grazie a tutti. Semplicemente per poi parlare un po' del valore sociale di quello che fate sui territori, che poi era questo di cui ragionavamo anche con Vincenzo. Per cui se devo chiedere alla regia di mandare le slide, sono 4-5, non vi preoccupate, non è una roba pesante. Le prime sono tratte dall'Eurobarometro sullo sport e l'attività fisica. L'Eurobarometro ha fatto un survey, un'inchiesta, un po' come quella che abbiamo fatto noi con questionari a cittadini dei 28 paesi, noi l'abbiamo fatto con voi, abbiamo chiesto una serie di cose sull'associazione e loro l'hanno fatto chiedendo informazioni sulla pratica sportiva. I dati come vedete non è che siano proprio fantastici, a fronte di un bel 7% di sportivi regolari che ha in testa la piramide abbiamo un 40% che pratica sport una volta a settimana e poi c'è un 46% degli europei che è totalmente sedentario, c'è il 46% dei cittadini europei che non fa assolutamente nulla in termini di movimento. Una percentuale che peraltro è in crescita rispetto a invece al precedente survey sempre di Eurobarometro che era di 5 anni prima del 2013 e questa percentuale si attestava al 42%, quindi sono molti di più gli europei che non fanno nulla. In questa classifica l'Italia è abbastanza fallino di coda, noi nella classifica 28 ci dichiariamo, perché vi ricordo che questo è quello che i cittadini europei dicono di fare, ci dichiariamo 23esimi, quindi dopo di noi abbiamo soltanto la Romania, il Portogallo, la Grecia e la Bulgaria, quindi un dato abbastanza preoccupante. Possiamo passare alla prossima? C'è una grande disparità fra gli uomini e le donne, nel complesso l'Europa gli uomini risultano più attivi delle donne, abbiamo un 44% rispetto a un 36%. La disparità è particolarmente sentita in un gruppo che invece dovrebbe essere quello che ha maggiore attenzione, cioè il gruppo di età fra i 15 e i 24 anni. Solo il 15% dei ragazzi dichiara di non aver mai fatto esercizio fisico, mentre il 33% delle ragazze lo dichiara. E io qui mi permetto di fare una piccola digressione su di voi e sul vostro lavoro e penso a tutto il lavoro che state facendo sulle disuguaglianze di genere, che è un lavoro importantissimo e che tutti i suoi territori ci avete dichiarato essere un pezzo importante del vostro lavoro extrasportivo. Il divario si restringe con l'aumentare dell'età, è molto interessante questa cosa, nella fascia over 55 la maggior parte degli uomini e delle donne non pratica sport, un 58% e un 64% rispettivamente, quindi diciamo si fermano e il divario si restringe. Un'altra correlazione interessante, possiamo passare alla prossima slide, è quella sull'istruzione, che è un dato anche questo molto interessante, fra l'istruzione e la frequenza dell'esercizio sportivo. La maggior parte delle persone che hanno lasciato il sistema scolastico all'età di 15 anni, vi ricordo che questo è Eurobarometro, per cui fa una serie di considerazioni che sono relative ai diversi sistemi scolastici, per cui non ci sono le nostre classificazioni ovviamente. Quindi i ragazzi che hanno lasciato il sistema scolastico all'età di 15 anni, il 73% di questi dichiara di non fare assolutamente nessuna attività sportiva. Anche qui io penso a, riguardando il vostro tesseramento, ai numeri del vostro tesseramento in questa fascia di età, che invece sono altissimi, e penso a tutto il lavoro extracurricolare che fate con le scuole, che è un lavoro importantissimo. Questa percentuale scende al 52% fra quelli che hanno concluso l'istruzione a 16-19 anni e scende ancora al 31, fra quelli che hanno completato l'istruzione dopo i 20 anni. Vedremo poi il dato italiano, anche il dato italiano è molto interessante. Quindi, diciamo, c'è una correlazione fra istruzione e attività fisica. E c'è una correlazione anche molto interessante nelle categorie socioprofessionali. Le persone in alcune categorie socioprofessionali hanno maggiore probabilità di praticare sport. Solo il 26% dei manager non pratica mai sport, rispetto al 36% dei lavoratori autonomi e al 49% dei lavoratori manuali. Quindi il 50% delle persone che fanno un lavoro manuale non pratica nessuna attività sportiva. Ci sono differenze anche in relazione alla posizione finanziaria dei rispondenti. E qui, diciamo, Eurobarometro ha fatto una domanda interessante. Ha diviso le categorie fra quelli che riescono a pagare le bollette sempre, quelli che hanno difficoltà qualche volta e quelli che sempre hanno difficoltà a pagare le loro bollette. Fra quelli che sempre hanno difficoltà a pagare le loro bollette, il 66% non fa nessuna attività sportiva. Scende un po' la percentuale al 55% fra quelli che hanno qualche difficoltà a pagare le bollette e a un 41% fra quelli che non hanno difficoltà a pagare le bollette. Quindi in generale, secondo Eurobarometro, la pratica sportiva è correlata al benessere economico personale e al livello di istruzione. Quindi questo è un primo dato particolarmente interessante. Passiamo alla prossima slide, arriviamo in Italia. Allora, il 39.1% degli italiani ci dice che non pratica nessuna attività sportiva nel proprio tempo libero. Parliamo di oltre 23 milioni di persone che sono inattive. E qui c'è un grande dato, che è quello di genere e un dato territoriale. Il 52.7% di queste persone che non praticano attività sportiva sono donne e sono residenti al sud. Adesso guardiamo cosa motiva o demotiva gli italiani a praticare sport. Possiamo passare alla prossima. Sempre l'ISTAT ci dice che, scusate, questo dato è, il dato italiano è ovviamente un dato dell'ISTAT sulla pratica sportiva, che lo sport in Italia non si pratica per mancanza di tempo, per mancanza di interesse, per l'età. Qui c'è un dato bilanciato fra i genitori che considerano che i bambini troppo piccoli non debbano fare pratica sportiva o l'abbandono delle persone over 65, in questo dato per l'età, per pigrizia, per stanchezza il 16.1%, motivi di salute, motivi familiari e poi abbiamo un bel motivo economico a un 13.8%. Questo dato italiano, possiamo passare alla prossima, il dato del 13.8% italiano è un dato che si scosta dal dato europeo che invece si attestava a un 7%, cioè gli europei rispondono in media che smettono di fare sport per motivi economici solo per un 7%, in Italia smettono di fare sport per motivi o non fanno sport per motivi economici per un bel 13.8%. E anche qui parliamo delle disuguaglianze socioculturali nella pratica sportiva. Anche qui l'influenza del livello di istruzione sulla pratica sportiva è molto rilevante. La quota di coloro che praticano sport è al 51.4% fra i lareati, qui vedete nella prima colonna azzurra ci sono gli uomini, i maschi, nella colonna gialla ci sono le donne e nell'ultima colonna ci sono uomini e donne insieme. Quindi abbiamo un 51.4% di laureati che fa sport, che scende al 36.8% fra i diplomati, al 21.2% che è il diploma di scuola media inferiore e al 7.3% fra coloro che hanno la licenza elementare o nessun titolo di studio. I dati di un'indagine istat, cittadini del tempo libero, evidenziano come lo sport viene praticato dai gruppi sociali che hanno un reddito più alto. Si stimano i livelli più elevati di pratica sportiva nei gruppi a più alto reddito, quindi la classe dirigente è un 47.6% come vediamo, le famiglie di impiegati un 44.6%, quelle che istat chiama pensioni d'argento al 34.9% e poi i giovani e i colletti brù al 33.9%. Quindi il reddito e il livello di istruzione anche in Italia influenzano i livelli di pratica sportiva. Possiamo passare alla prossima. Dal punto di vista dei giovanissimi noi abbiamo anche qui dei dati abbastanza cruciali. La pratica sportiva tocca aspetti veramente importanti. Più di 6.890.000 ragazzi fra i 10 e i 24 anni, quindi parliamo di un 77.6% dei giovani in questa fascia di età, hanno avuto almeno un'esperienza sportiva nella vita. Fra questi 5.163.000 praticano ancora sport. Però questo vuol dire che c'è 1.440.000 ragazzi che hanno smesso di praticare sport. Che è, diciamo, ragioniamo di un 16.2% della popolazione totale, cioè fra i 10 e i 24 anni. Circa un quinto di ragazzi e di giovani fra i 10 e i 24 anni, quindi, non ha mai praticato uno sport. Qui c'è un divario importante, perché il 19.2% sono donne e il 27.2% sono maschi. Un divario che si conferma anche per quanto riguarda i giovani che interrompono di fare sport. Le ragioni di questa inattività sono diverse, però anche qui vediamo che il motivo economico è importante, appunto a un 13.8% e si aggiunge un 5.1% di mancanza di impianti sportivi. Quindi sui territori mancano gli spianti sportivi adeguati e quindi i giovani smettono di fare sport. Questi due aspetti, ovviamente, di cui purtroppo l'Istat non ci dà una disaggregazione per età, e questo sarebbe molto interessante invece averla, segnalano la necessità di intervenire sui fronti che poi sono stati sempre indicati dalle raccomandazioni europee, cioè eliminare le barriere legate al costo ed eliminare le barriere connesse all'accessibilità delle strutture. Quindi abbiamo visto che laddove incidono maggiormente i fattori che determinano delle disuguaglianze socio-economiche, lì è minore la propensione a fare attività sportiva. Disuguaglianze economiche, ovviamente sociali e di riconoscimento economiche, quindi disuguaglianze di reddito, di lavoro, di ricchezza privata, di povertà, ma anche sociali, cioè di accesso ai servizi, di qualità o di fiducia nei servizi pubblici e nei servizi essenziali, o di riconoscimento, cioè riconoscimento di ruolo, di valori, di cultura, di aspirazioni della persona. Disuguaglianze che colpiscono ancora in modo particolare le donne e minacciano il futuro dei giovani. Queste disuguaglianze però merita un cenno anche il fattore geografico perché è molto importante. È notevole, ovviamente lo sapete meglio di me, il divario fra le regioni in cui si registra una maggiore presenza di impianti sportivi e invece dove non si presenta, per esempio nel sud, il dato dell'abbandono o della non pratica sportiva arriva al 52.1%, quindi è importantissimo ovviamente la presenza nei territori degli impianti sportivi. Queste disuguaglianze di cui abbiamo ragionato finora non è che sono l'effetto inevitabile di cambiamenti che è al di fuori del nostro controllo, sono scelte politiche, un effetto composto di scelte politiche, di scelte culturali, di scelte economiche, una sorta di inversione delle politiche pubbliche, in cui abbiamo avuto una perdita negoziale del lavoro, è come una specie di cambiamento del senso comune e quindi se non sono l'effetto inevitabile di cambiamenti che sono al di fuori del nostro controllo è possibile e doveroso intervenire, adottando forme innovative di attivismo civico e di azione sociale per provare a cambiarlo questo senso comune che si è modificato. E qui entra in gioco il vostro lavoro importantissimo sui territori, perché quello che noi abbiamo trovato è che svolgete un ruolo molto significativo nei processi di trasformazione sociale. Il vostro lavoro sui territori è la capacità di valorizzare le potenzialità delle persone che praticano sport, perché è, come diceva prima il Presidente, anche un grande dispositivo di coesione sociale, un aggregatore naturale, perché attraverso lo sport si creano nuove relazioni di comunità e questo è stato evidente nella nostra valutazione. Gli spazi dello sport sui territori di UISP sono luoghi dove i bisogni, i desideri, le competenze di ciascuno possono emergere e non è così comune trovare, soprattutto in alcuni territori, spazi in cui questo è possibile, in cui le persone, i singoli o i gruppi possano esprimere le loro necessità e i loro bisogni e cercare di trovare delle soluzioni concordate a questi bisogni. Quindi le persone diventano risorse, i gruppi diventano risorse in questi spazi e le comunità diventano delle palestre per creare una nuova capacitazione delle persone. Le persone si formano, si formano a un civismo attivo, si formano a prendersi cura di se stesse, dei gruppi e della comunità. Questo è quello che noi abbiamo trovato che voi fate sui territori. Quindi lo sport rigenera gli spazi e le relazioni di comunità ed è un'occasione di coesione sociale e di rigenerazione urbana. Abbiamo visto infatti che voi con il lavoro sui territori sperimentate quanto l'attività fisica e motoria praticata in un modo diffuso nello spazio urbano, quindi anche a di fuori dei luoghi tradizionali dello sport, offra anche motivi di risignificazione di quei luoghi, per cui si trasformano anche i luoghi attraverso il vostro lavoro. Lo sport sociale che produce inclusione è quello che sa prendersi cura del territorio, della comunità, delle persone, che è quello che voi fate. Quindi il famoso ragionamento che facevamo all'inizio, sulla quale abbiamo costruito la nostra valutazione, delle due anime di WISP, l'anima sportiva e l'anima sociale, nei territori, soprattutto in alcuni territori, poi vi do un'indicazione anche del perché, queste due anime sono un'anima sola, sono l'anima dello sport sociale. Quindi non c'è più questo dualismo, questo doppio binario sul quale corre la WISP. Nei territori, in alcuni territori, diventa lo sport sociale. In alcuni territori di periferia, quelli particolarmente complessi, il lavoro dei comitati territoriali ha una grande influenza anche sul comportamento dei cittadini, perché appunto insegna a prendersi cura della propria comunità. Quando questo funziona meglio? Quando anche nei territori si ha la capacità di fare rete, quando anche nei territori si ha la capacità di aprire il confronto e la progettazione anche a tutti quei movimenti coraggiosi, a tutti gli altri, che non sono tantissimi, è vero, in alcuni territori, ma a tutte le altre reti che hanno lo stesso tipo di approccio che avete voi, lo stesso desiderio di cambiamento della società che avete voi. Quando riuscite a fare questo, il lavoro è un lavoro, come dire, che è l'anima della vostra mission e che funziona. E quindi la pratica dello sport sociale deve essere associata alla costruzione di una rete di relazioni che c'è molto nel nazionale, oggi qui l'abbiamo visto, le relazioni che il nazionale attiva, e che però devono essere trasportate con la stessa intensità nei territori. La costruzione di questa rete di associazioni, di relazioni con altre formazioni sociali del proprio territorio e anche con altre zone delle città, integrando le periferie con i centri, perché anche questo è un grande lavoro da fare, se non c'è interazione con il territorio, il lavoro dell'associazione si impoverisce. Il vostro lavoro fa la differenza quando i comitati territoriali sono consapevoli della loro funzione pubblica e sanno collocare le loro azioni in una dimensione di cambiamento in grado di agire sulla realtà e quando sono in grado di fare rete con le altre associazioni territoriali. Come diceva il Presidente bene prima, in questi ultimi anni l'Italia ha vissuto un pesante arretramento culturale sul tema dei diritti, abbiamo assistito alla costruzione come di un nuovo racconto sociale che ha colpevolizzato sempre di più le persone in difficoltà economiche, quasi che le difficoltà economiche fossero responsabilità delle persone stesse. Un meccanismo alimentato da una specie di negazione della povertà che nutre e fa crescere la rabbia dei penultimi verso gli ultimi. Ecco, per realizzare un cambiamento di senso, per realizzare un'inversione di rotta, questo senso comune che non è un senso comune che ci appartiene in realtà, servono nuove relazioni fra parti diverse della società. E' necessaria organizzazione di cittadinanza attiva, enti di promozione sportiva, operino insieme, progettino insieme e trovino nuove forme di collaborazione anche con il mondo della ricerca, perché il mondo della ricerca vi dà la possibilità di leggere i bisogni del territorio ancora meglio, è un'interazione fra queste realtà, vi dà la possibilità di essere strumento vero di cambiamento. Quindi servono alleanze che mescolino linguaggi, che costruiscono una lettura condivisa della realtà, per avere una visione di un futuro desiderato. Alleanze che costruiscono una progettazione territoriale che sta a nutrirsi dell'immaginazione sociologica, come diceva Mills 70 anni fa, credo, che però è quella che insegna a guardare la realtà con occhi diversi per trasformarla. Grazie. 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 Grazie.